Nell'esercizio di questo video Questo proprio perché a con n è uguale a n alla terza su e alla n Sia il numeratore che il denominatore sono le termini positivi Quindi sarà sempre maggiore o uguale di zero E quindi un'idea che possiamo usare per provare a studiare la convergenza di questa serie È utilizzare il criterio del rapporto Che vi ricordo si applica soltanto alle serie a termini positivi Allora cosa dice il criterio del rapporto? Per studiare la convergenza di una serie dobbiamo andare a studiare il limite per n che tende a più infinito Della quantità a con n più 1 diviso a con n Se questo limite è strettamente più piccolo di 1 la serie sarà convergente Se il limite invece è più grande di 1 strettamente la serie sarà divergente Mentre se il limite è uguale a 1 non possiamo concludere niente dal criterio Quindi come prima cosa andiamo a calcolarci quanto vale proprio il rapporto a con n più 1 diviso a con n Allora abbiamo detto a con n uguale a n alla terza diviso e alla n A con n più 1 lo dobbiamo sostituire al posto di n n più 1 Quindi abbiamo n più 1 alla terza diviso e alla n più 1 E poi come vediamo diviso a con n E a con n abbiamo detto essere n alla terza diviso e alla n Quindi usiamo le proprietà delle frazioni Questo qui è come riscrivere n più 1 alla terza diviso e alla n più 1 E moltiplica e alla n diviso n alla terza Raggruppiamo Allora qui abbiamo n più 1 alla terza diviso n alla terza Possiamo riscriverlo come n più 1 diviso n il tutto alla terza E poi abbiamo quello che rimane Quindi e con n diviso e alla n più 1 E alla n più 1 possiamo scriverlo come e alla n per e E alla n per e Quindi questo termine qui si semplifica con questo termine qui E quindi questo rapporto vale proprio 1 su e Che moltiplica n più 1 su n alla terza A questo punto siamo pronti per studiare il limite per n che tende a più infinito di a con n più 1 su n A con n più 1 su a con n, scusate E quindi uguale al limite per n che tende a più infinito di che cosa? Di 1 su e Abbiamo detto che moltiplica n più 1 su n alla terza Ora, 1 su e è una costante Possiamo portarla fuori dal limite Quindi questo qui è 1 su e il limite Per n che tende a più infinito di n più 1 su n alla terza Quanto fa questo limite? Fa proprio 1 su e Che moltiplica Allora n più 1 su n quando n tende a più infinito Tende a 1 1 alla terza è di nuovo 1 Quindi 1 su e per 1 Ovvero 1 su e E è un numero più grande di 1 Perché è 2,7 qualcosa Quindi 1 su e è strettamente più piccolo di 1 E a questo punto dal criterio del rapporto Possiamo concludere che la nostra serie è convergente Dato che il limite per n tende a più infinito di a con n più 1 diviso a con n È una quantità strettamente più piccola di 1 E inoltre la nostra serie ha termini positivi Quindi dal criterio del rapporto concludiamo che La nostra serie Ovvero la serie Per n che va da 1 fino a più infinito Di n alla terza diviso e alla n È una serie convergente Con questo abbiamo concluso l'esercizio